L'intelligenza artificiale sta sostituendo tutti i lavori ripetitivi, però non potrà mai sostituire i lavori di creatività, no? Sicuri? Venite con me! L'intelligenza artificiale è un mondo molto molto ampio all'interno dell'informatica e in estremissima sintesi significa avere macchine e relativi software che cominciano a pensare come facciamo noi, nella stessa maniera, con un processo di apprendimento e rielaborazione progressiva, con una crescita continua dell'approfondimento, della capacità di analisi, veramente una sorprendente similitudine col modo che abbiamo noi umani di pensare. È un universo in grandissima espansione, anche molto contemporaneo, tutt'altro che fatto al scientifico, ci sono già dei software che cominciano a essere in grado di elaborare diagnosi mediche in modo da affiancarsi chiaramente al dottore in carne ed ossa. Ci sono in ambito legale dei software che leggono e comprendono, è molto importante capire questo perché i software e l'intelligenza artificiale realmente comprendono le sentenze dei tribunali in modo da affiancare, agevolare il lavoro degli avvocati poi nella prosecuzione del loro percorso di difesa o nella loro professione. Quindi l'intelligenza artificiale sta gradualmente entrando in ambiti di quotidianità dove in effetti sembra aver risolto ed essere in grado di risolvere numerosi ambiti dove la ripetitività è una caratteristica. Si ritiene però che l'intelligenza artificiale non potrà mai andare a sostituirsi negli ambiti dove il guizzo intuitivo, artistico, di sensibilità, di creatività sono la caratteristica fondamentale. E questa convinzione, secondo me, spero di non sbagliarmi, ce l'avete anche voi ed è paradossale che un creativo come me, beh, vi dica che ahimè non stanno proprio così le cose perché oggi l'intelligenza artificiale può essere che mandi a casa qualcuno come me. No, per favore, non posso essere licenziato. Lei è licenziato. No. Lei è licenziato. Lei è licenziato. Lei è licenziato. Negli ultimi mesi, e parlo di mesi e non anni, si sono affacciate delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale sulla quale vi invito a indagare. I software come DALI2, Midjourney, Stable Diffusion, però credetemi che questi tre nomi sono puramente rappresentativi in realtà di un mondo che quasi ogni mese vede qualcosa di nuovo arrivare al suo mercato. Ma andiamo con ordine perché mi rendo conto che l'argomento è affascinante ma anche molto complesso. Innanzitutto, infatti, parliamo di algoritmi di straordinaria complessità che però in estrema sintesi come funzionano. Innanzitutto si sono costruiti, o meglio, li abbiamo aiutati a costruirsi, una sorta di cultura di immagini e quindi sono stati alimentati da milioni e milioni e milioni di fotografie, di immagini, di illustrazioni, che però è importante capire, loro non hanno scansito come potrebbe fare uno scanner, quindi non le hanno interiorizzate pixel per pixel. hanno letteralmente capito che cosa queste immagini contenessero, cosa fossero, come fosse stato questo oggetto illustrato e questo ha permesso loro di creare una sorta di cultura e mi rendo conto che si fa a volte fatica a usare queste parole perché stiamo parlando pur sempre di macchine a tutti gli effetti, cultura fotografica illustrativa che a questo punto permette a questo tipo di software offrirci questo tipo di esperienza che provo a descrivere via nella maniera più sequenziale e semplice possibile. Questi software ci permettono di scrivere testualmente la descrizione di quello che noi vorremmo loro ci illustrassero e in pochi secondi un'immagine inedita, non un collage di immagini esistenti, un'autentica illustrazione che prima non esisteva, interpretazione delle parole che noi abbiamo dedicato e la cosa affascinante è che il percorso che questo software fa è sorprendentemente simile a quello che faremo noi se ci venisse domandato di fare l'illustrazione della motocicletta rossa. Chiuderemo gli occhi, metaforicamente o meno, percorreremo nella nostra mente le immagini di motociclette rosse che abbiamo raccolte nella nostra vita e in base alla nostra cultura, la nostra capacità, la nostra sensibilità, il nostro desiderio di reinterpretare o essere realistici, andremo a elaborare l'immagine, a volte un po' basica per chi non sa disegnare, a volte particolarmente curata per un bravo illustratore, di una motocicletta rossa. Questo tipo di software fa lo stesso, la differenza è che lo fa con una rapidità straordinaria, ma ad esempio ad ogni richiesta testuale, che proprio va vista come l'espressione delle caratteristiche di quell'illustrazione che vogliamo, ci offre quattro risultati in pochissimi secondi e a questo punto noi abbiamo la possibilità di individuare fra questi quattro quello che più si avvicina a quello che avevamo in mente e chiedergli, bene, della proposta una affinamela, procedi e questa iterazione più o meno dura fino a quanto abbiamo voglia noi, arrivando gradualmente a generare le immagini abbastanza sbalutative, anche perché è importante capiate che queste descrizioni possono avere una complessità, queste descrizioni testuali, straordinaria, andando a contenere informazioni sul tipo di lente e quindi di inquadratura che noi vorremmo fosse stata usata idealmente per fare questa illustrazione. Potremmo andare addirittura a indicare le emozioni che questa immagine dovrebbe contenere al proprio interno. Siccome questi software hanno addirittura capito e ha assimilato i diversi stili pittorici, noi possiamo anche dire disegnami una paperella in un cestello blu, arrivo quasi a non ricordarmi neanche l'esempio che ho inventato per questo video, ma con lo stile di Van Gogh e il software elaborerà il tratto con la tipica pennellata del pittore dall'orecchio mozzato. Pazzesco! Direi che se mi avete seguito e se vi state in parallelo mentre guardate questo video cominciando a documentare stiamo parlando di una cosa assolutamente sbalorditiva e però soffermiamoci secondo perché qui comincia a nascere un po' un piccolo problema, una piccola controversia e facciamo un passettino in avanti. Non molto tempo fa in Colorado c'è stata una esibizione, una fiera d'arte e all'interno di questo evento ci fu un premio, una gara per illustratori, una competizione per illustratori. Moltissimi partecipanti e un vincitore, come inevitabilmente capita in ogni competizione. Peraltro l'immagine che ha vinto, l'illustrazione che ha vinto è questa, molto bella, la trovo particolarmente poetica. Qui però nasce il problema perché questa illustrazione non è stata fatta da un artista in carne ed ossa, è stata realizzata da un software d'intelligenza artificiale e qui apriti cielo. Non tanto perché l'immagine non è stata ritenuta meritevole, ha vinto e quindi quello non glielo toglie nessuno, ma da qui si è aperto un dibattito sul rapporto fra artista e macchina o strumento al suo supporto. Chi è a questo punto l'autore? Beh, a tutti gli effetti è chi ha scritto la stringa testuale che ha generato quell'immagine o il software che l'ha a tutti gli effetti realizzata e pensata. E da qui si è propagata e continua a propagarsi nella comunità creativa, intellettuale e artistica, un dibattito molto molto acceso sul ruolo che questo tipo di tecnologia ha nei confronti del mondo della creatività. Non evitiamo peraltro che queste tecnologie stanno avendo una progressione esponenziale mese per mese. Vi assicuro che sei mesi fa quello di cui vi sto parlando adesso era molto più imbrunale e non aveva sicuramente il look e la pill che potete vedere in queste immagini e sono sicuro che fra sei mesi buona parte delle parole che vi ho detto saranno anche superate e mi prendo questo rischio. A questo punto, come in tutte le novità, in tutte le tecnologie, in tutti gli approcci disruptive che la vita ci pone, si stanno creando due fazioni. Gli angosciati, i pessimisti, vedete voi come, a che titolo volete dar loro, che ritengono inaccettabile che una macchina possa andare a sostituirsi e addirittura vedono questo tipo di tecnologia come un'autentica minaccia occupazionale per decine, centinaia di migliaia di artisti, illustratori, grafici, designer, che fanno della creatività il loro motivo di business e ritenevano fino a poco tempo fa di essere attualmente inattaccabili da un software, da una macchina che per definizione è votata a fare cose ripetitive. Dall'altra parte c'è una fazione, una seconda fazione, i più positivi, ma sono etichette che stavo inventando io, sia ben chiaro, che vede questo tipo di tecnologia come semplicemente un nuovo strumento di produttività per andare a generare delle nuove professionalità, delle nuove potenzialità espressive, perché a questo punto io con queste immagini innanzitutto posso diventare un nuovo esperto curatore di questi script e quindi in grado di far generare il software delle immagini particolarmente suggestive. Oppure posso incorporare queste immagini che con grandissima rapidità si creano in un mio nuovo linguaggio espressivo, in un percorso tridimensionale e adesso mi fermo perché solo la creatività poi può capire dove potremmo andare con questi nuovi strumenti. Io ammetto, non vi nascondo, che paradossalmente non riesco ad essere sindacale nella mia visione da creativo e mi schiero di più nella seconda lettura, nel secondo partito, perché credo molto nella potenzialità di cavalcare questi nuovi strumenti, ma magari mi sbaglio. Quindi più che mai credo, spero di avervi solleticati, vi invito ad andare a sbirciare queste tecnologie perché sono incredibili e soprattutto la domanda è ma immaginate che sia possibile che il vostro lavoro un giorno venga sostituito da un software? Se sì, quando? E se no siete proprio sicuri, perché rischiate di fare la fine dei creativi che pensavano di essere inattaccabili e forse oggi non lo sono più. In ogni caso commenti sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie!